Ragazzi, bentornati su Quei Due Sul Gaming. Consiglio spassionato da zio Sinergo. Mettetevi le cuffie per guardare questo gameplay, perché una parte importantissima di questo pallisto scrotocol è l'audio, cioè il panorama sonoro. Se volete godervi almeno una roba in questo gioco, fatevi un favore, mettete le cuffie. Ok ragazzi, The Callisto Protocol. Questo non è un gioco che aspettavo per il gameplay, perché quello che ho visto non mi ha colpito, mi ha ricordato molto Dead Space, il cui gameplay non mi fa impazzire, perlomeno il gameplay di Dead Space 3, che è l'unico che ho provato. Però dal punto di vista dell'impostazione tecnica, il motore che è il nuovo Unreal e le immagini che ci hanno fatto vedere, mi è sembrato essere, finalmente, almeno dal punto di vista grafico, la next gen. Stiamo giocando su Xbox Serie X. Per comodità non sto usando il mio televisorone da salotto, ho portato la Xbox qui nel mio studio. Io me lo godrò un po' meno, perché ho qui un televisorino piccolo, senza troppe pretese, però volevo che ci fosse un ambiente consono ad una registrazione con i controcaspiti. Quindi, nuova esperienza. Media sicurezza, immagino, sia semplicemente il livello normale di difficoltà, livello al quale, secondo me, andrebbe giocato qualsiasi gioco. Andiamo a regolare la luminosità in modo tale che... Ok, do un punto in più di luminosità, lo faccio perché so che in gameplay si scuriscono spesso molte cose, quindi voglio che anche voi vediate bene. Ok, la protagonista credo, comunque la protagonista di questa scena si aggira in una città devastata, un sacco di morti, maschera sul viso, quindi ci sono delle spore, c'è un'infezione, c'è qualcosa. È molto bello visivamente, anche se devo dirvi la verità, non sto impazzendo per quello che vedo. Sembra un gioco PC, devo dire la verità. Guardandolo sul console ho la sensazione che sia un gioco PC. Credo che sia già una vittoria, voglio dire, per una console. Massacro su Europa, un pianeta quindi. Mettiamoci sottotitoli ragazzi, sarà più semplice seguire, dimensione carattere, diamogli una dimensione maggiore, ok. Colore e fonte, va bene così. Nome personaggio, sì. Suondo, ok, va bene. Avete superato il perimetro di sicurezza. Ricevuto controllo Anger. Restiamo in rotta per la stazione Europa. Vuoi dire qualcosa o farei scattare quell'affare tutto il santo giorno? Stavo guardando quello. È la nostra ultima corsa, Max. Non ne parliamo più. Allora cosa vuoi che dico? Grazie, magari. Dato che dopo questo non dovremo più lavorare un solo giorno in vita nostra. Vedo che hai già pensato a tutto. Direi di sì. Eh dai, su, che storia è? Eh? Avanti e indietro, Callisto e Europa. E tutti i controlli di sicurezza? È una luna a prigione, Max. La prendono sul serio, la sicurezza. E gli attacchi? Eh? Come me li spieghi quelli? Di via estrema. Sono sei mesi che colpiscono obiettivi in tutto il settore. Si è accesa una spiaggialla nella stiva. Non sarà niente. Comunque è meglio controllare. Dovresti preoccuparti così tanto. Ti avrai ancora un bel po'. Ok, non ho ben capito cos'hanno in ballo questi due. Sono in errore. Dagli un'occhiata. Vado, vado. Allora, non impazzisco ovviamente per il sistema di controllo. È molto dell'astovase. Come responsività... Cioè, non dico cazzate. La camera è un po' più reattiva, ma guardate qui, spostarsi in avanti. Io capisco la cinematograficità. Capisco tutto veramente, però... È un dolore per me giocare così con questi controlli maledetti. Poi vabbè, mi guardo intorno. È incredibile sto posto. È incredibile. Ci sono dei dettagli pazzeschi. Vediamo, è un gioco in cui possiamo... Spippolare intorno. Sbloccata. Qui ci sono le cabine. Beh, la cura per i dettagli è fotonica. Sicuramente il gioco di questa generazione con dettagli più curati. Perlomeno in questo ambiente specifico. Ragazzi, non lo rascio questo gameplay. Questo sarà un gameplay... Plain. Cioè, come si facevano una volta, ma perché Callisto Protocol è un gioco che potrebbe... Potrebbe raccontarci la next gen. Per il momento, lato gameplay, mi ricorda soltanto di quando sarò vecchio. E mi muoverò con ritardo. Però... Merda. Merda. Allora, abbiamo anche un piccolo zoom con il grilletto sinistro. Questa è sbloccata, ma credo... Uh, il cesso. Beh, beh, andare a... Un'occhiata anche al cesso mi sembra un'ottima idea. Niente, non c'è nulla con cui possiamo interagire. È tutto bellissimo, ma per il momento almeno non interagibile. Credo che sia un gioco estremamente tunneloso. E... Si muove così... No, siamo a 30 fotogrammi al secondo, i 60 ce li sogniamo e siamo su serie X. Non possiamo scendere. Non capisco bene perché. Non c'è la corsa, almeno al momento. I vari tasti... Questo ci permette di abbassarci. Il tasto B, quindi il tasto cerchio se giocate su PlayStation. Potevi mettere un po' più a posto, Max. Bella illuminazione con i controquarzi. C'è il salto contestuale, non possiamo saltare quando vogliamo, possiamo saltare solo quando c'è questo tipo di prompt. La loro operazione mi risulta ancora un po' oscura. Non so cosa stiano tramando questi due, però quando uno dice in qualsiasi... Oh, guardate che bello. Molta roba, molta roba. Però mi piange il cuore ad essere tornato a 30 fotogrammi al secondo. Gameplay, difficoltà, sensibilità, potenzia mirassistita... Ragazzi, non ci sono impostazioni di... Di framerate. Purtroppo ce lo dobbiamo tenere così. Per quanto molto bello, per quanto incredibile da vedere... Però mi sembra troppo la vecchia generazione a 30, veramente. E ormai mi sono abituato a vedere i giochi a 60 fotogrammi al secondo. Se next-gen significa tornare al problema che avevano le console fino alla scorsa generazione, io non lo so se la voglio la next-gen. Perché noi siamo già arrivati, sostanzialmente, ad un punto in cui... Tra PC e console c'è soltanto questa piccola differenza del framerate. Non è più come negli anni primi 2000, fine anni 90, in cui il PC veramente rompeva il culo al console. Non aveva senso per me giocare sul console. Adesso praticamente l'unica cosa che avevamo in più, giocando su PC, era il framerate. Però questa generazione e tutti i giochi che sto sperimentando adesso, grazie al Game Pass, grazie alla PlayStation 5... Cioè, sono belli perché vanno fluidi, sono giocabili. A me Plague Tale Requiem mi ha proprio fatto cascare le braccia. Questo mi sta facendo cascare le braccia, per quanto sbalorditivo visivamente... Mi sono cagato addosso. Bel tunnel, ragazzi, è un bel tunnelone massiccio. Io ho paura che sia così... Ho paura che sia così labirintico. E io non ci sto capendo niente, se dovessi dire dove sto andando non ne ho la più pallida idea. Ho paura che il gioco sia così, ambientato in angusti corridoi all'interno di navi spaziali. Il capo bloccante è ancora attivo. Non per molto. Cosa voglio? Come faccio a saperlo? So che questo gioco avrà un sacco di hater. E io lo capisco. Non ancora. Lo capisco perfettamente. Cioè, molti diranno, tutta grafica e niente gameplay. E ho paura che abbiano anche un po' ragione se continuo così. Fermatelo! Ma è la tipa... È la tipa che abbiamo visto all'inizio in città, in mezzo a quel disastro... Cosa fai? No! Cazzo! Matta questa. Vieni duro, sto arrivando! Non so se sono io a pilotarlo, nel dubbio tengo lo stick in avanti. Non ti stai arrostendo i coglioni a mettere... Controlli di volo alla mia stazione! Mi ha ucciso con la fase. Mi ha ucciso. Richiediamo autorizzazione di emergenza. Negativo, Caronte UJC. Rientro non autorizzato. Mi spiace, non ho scelta! Siamo imbicchiata! L'opulsione antigravità! Al massimo! Non ce la faremo! Sì, invece! Quindi atterriamo su questo pianeta. Callisto, a quanto pare. Che fa rima con quello che sta pensando lui mentre atterra, sicuramente. Callisto! Ma no! È andata! Sì, sì, parli con il morto tu, ovviamente. Max! 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 Resisti, amico! Sono arrivato! Resisti, amico! Arrivo! Jacob! Jacob! Mmm! Perché? Perché non mi hai ascoltato? Su, su! Coraggio! Non so come abbia fatto ad articolare tutte queste parole in maniera così precisa senza chiudere mai le labbra. Non so come abbia fatto che i doppiatori non possono vedere le scene e nessuno gli dice guarda che il tuo personaggio non può chiudere la bocca, è distrutto, eh. Parla così, ora in questo modo. E loro parlano ormai, poveretti, come Luca Ward che in discoteca in cyberpunk sussurrava. Continuare di cyberpunk sussurrava. Sicurezza di Black Iron! Sei il pilota? Sì. E lui? E lui è morto. Ce ne basterà uno. Ok, usciamo da qui. Sicurezza di Black Iron. Avevate prelevato un carico dall'hangar. Non ci vedono tanti esterni da questa parte. Faccio il mio lavoro. Me ne rendo conto. Regolatori termici abilitati. E la prima nave che perdo ci ha abbordati... Lasciatevi andare! Uh, ma questa come cazzo si è salvata? Calma, calma, battone. Tu fai il tuo lavoro e io faccio... Signora? Sì, signora? Come vuole lei. Prendi anche lui. Ehi! Ma ti accrendimi! Da pallisto protocol! Ehi! Io non ho fatto niente! Posso dire che si capisce davvero poco o niente. È tutto un sottinteso. Io veramente ho capito davvero poco di cosa volessero fare loro, di chi fosse quella gente, nella nave. Ne sono curioso di scoprirlo, eh. Che cazzo vuoi? Ma è... E chi amico? Ok. I detenuti devono parlare solo se interpreta. Aspetta, c'è stato un errore. Mi chiamo Jacob Lee, non sono un detenuto. Detenuto 532-521 e ti rivolgi a me come capitano Fels. No, no, no. Sono un pilota mercantile. Sono stato attaccato da via estrema. Da lei! Ha fatto schiantare la mia nave e ha ucciso il tuo pilota. Ah, via estrema è un... Un gruppo, ok. Prima, quando hanno parlato di via estrema, pensavo fosse una... Perché parlavano di attacchi. Pensavo fosse una procedura per rispondere agli attacchi. Via estrema... Via condotti qui, a questo momento, a questo posto, l'unico a quale apparteniate, per trovare ciò che non avete mai avuto. Uno scopo per le vostre inutili vite. Sono il direttore Kohl, e insieme troveremo quello scopo. Benvenuti alla prigione di Black Island. Grazie. Adoro quest'ultima parte. Mi dà i brividi ogni volta. Fine della corsa, alzano. Detenuti. Vi ho dato un ordine di regola. Non è giusto, io non c'entro niente! Senti. Sai che Callisto è chiamata la luna morte. Madonna quanto si sente poco la voce di questo. Proprio come lo saresti tu se non ti avessi ripescato dai lontani. Per quanto la sensazione... Si sente un cazzo. Sì, ma perché mi devi far cambiare lavoro? No. Ma qualcosa che stai aggrappando, quella è la tua vecchia vita. Lasciatela alle spalle. Perché quella nuova è interamente nelle mie mani. Comunque lei là dietro, porca puttana, è lei. Non mi ricordo come si chiama l'attrice, è chimico di The Boys. È porca troia uno a uno. Cioè ormai fanno delle scansioni ai visi che sono spettacolari. negli istituti correntivi UJC. Sottoponetevi immediatamente alla procedura per i nuovi detenuti. Ehi! Fermi! Aspetti! Aspetti! No, non puoi! Solo che io mi sto genuinamente annoiando. Ok, quindi sto dispositivo core potrebbe farmi del male, perché non sono schedato. Magari non lo reggo. Dottoressa, lo perdiamo. Iniettori. I visi sono incredibili. Incredibili. Sono persino troppo dettagliati. A volte sembrano finti perché veramente anche il pelino proprio... Però sono incredibili. Le espressioni pure sono di buon livello. Cioè, certe volte sembra di guardare la qualità di seno a Sacrifice. E non è poco. Vabbè... 5-3-2-5-2-1 Blocco 12 C'è la B-15 Si spengono le luci alle 17 Perché in questa stanza due sgabelli? Con un divisorio? Se sono da solo? Ah, perché c'è il letto sopra. Quindi questa è una stanza per due? Che cazzo vuol dire sta cosa? Brutto. Personale di sicurezza ha rapporto nel blocco principale. Non è un'esercitazione. Mantenete la calma. Non c'è niente da tenere. Ok, quella è la barra della vita sicuramente. Qualcosa non va. Ok, i detenuti stanno scappando. Oh my god. Oh my god. Perché in inglese? Chi l'ha visto, Protokol? I robot sono di una bellezza estrema. Guardate che fighi. Sì, il feeling di movimento è proprio della Stovas. Quindi meno 5 proprio. Lui si sente quando parla. Ora no. Coltello. È semplicemente un oggetto che poi potremo usare, ma non credo di poterlo usare adesso. Allora, bisogna cercare di aprire qui. Non credo che si potrà fa... Ah! 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 Chiamati fortunato che non si è chiuso mentre ci stavi in mezzo. Ok. A quanto pare dobbiamo passare sul ponte. Vabbè, andiamo avanti. Allora, non credo che non si è chiuso mentre si è chiuso mentre si è chiuso mentre si è chiuso. Non lo so, ragazzi. Sì, non lo so. Cioè, io non sto ancora giocando. Cioè, nel senso, questi sono filmati con quick time event. Non vedo l'ora di arrivare al gioco, cioè proprio al gameplay. Questo che sto sperimentando adesso non è gameplay. Questo è gameplay. No! Ora ho schivato veramente io. Attacchi mischi e schivata. Tieni premuto il joystick sinistro verso sinistra o verso destra prima che il nemico ti attacchi per schivare. Ok. Non c'è una finestra temporale per farlo. Assicurati solo di tenere premuta verso sinistra o verso destra prima di ricevere il colpo. Per schivare una serie di attacchi di mischia, tieni premuta la levetta sinistra in una direzione. Poi tieni premuta di nuovo la levetta sinistra nella direzione opposta. Prima che... Ok. Quindi tu bisogna alternare, altrimenti il colpo successivo te lo prendi. Allora, adesso ho la possibilità di attaccare anche con Ypsilon e schiacciare a terra. Quindi i nemici una volta tramortiti probabilmente possono essere finiti col piedone. Di là ho visto qualcosa. Mi ha attaccato e non sembrava umano. Di che stai guardando? So cosa ho visto. Questo colpo può farti uscire di destra, ma ora abbiamo una chance. Qualunque cosa hai visto è un motivo in più per filarcela. Vedi la torre di guarda? Sì. Incontriamoci là e vi spiego il piano. Come? L'ascensore è di là. Sali al piano superiore. Mi faccio vivo io. Ma tu con sto bordello prenderesti un ascensore con tutte le luci che si accendono, si spengono... Ma... Non ti posso menar te Calpesta cadavere Ok ci sono Buoni di callisto Quindi calpestare Non serve a finire il nemico Serve a far uscire il drop No che palle No ti prego E' orribile Una volta che uccido uno il drop Devi far uscire per forza Ho abilitato le comunicazioni A doppio senso nel tuo corpo Segui dopo Vedi che hai raggiunto Il montacarico Senti e trova l'ascensore su un altro piano Dai Pallisto protocol Mi ha fatto un lavorone ragazzi Psicraficamente Roba Non oso pensare Quanta cura Ci abbiano messo Anche soltanto Per ogni angolino Che c'è qua Merda Eh però t'ho colpito Comunque io credo che prima Non ho schivato sempre Perché sono uscito da lì Che non ero più verde Ero giallo Vabbè Usiamo questo nemico Per fare ancora pratica Perché premere All'indietro Bellissimo Però aspetta C'è un sistema per parare Tirando indietro Lo sto sperimentando Ma mi sta ammazzando sempre Io me l'ho schivato Perché mi ha colpito Beh bellissime le morti Ragazzi Sto fatto però Che se loro stanno in animazione Sono in corpore Mi rompe un po' il cazzo Se posso dire Ma come cazzo Sono morto adesso Eh ma ho capito Qual è la Allora Non è all'ultimo momento La schivata Non è tipo Perry Non è tipo Perry Molto prima Mentre il nemico Carica Ecco perché prima Sono uscito Da lì giallo Perché in realtà Non li ho parati i colpi Li ho schivato Ho visto l'animazione Della schivata Ma non li ho schivati O comunque Buona parte Non li ho schivati Cerca le cassette Fissate alle pade Che contengono Gli iniettori di salute Premi la croce Direzionale in giù Per usare Rapidamente Un iniettori di salute Puoi anche usare Gli iniettori di salute Manualmente Dalla schermata Dall'inventario Ok Non è molto interagibile Questo mondo Purtroppo Finora mi sembra Un survival horror Io non mi sono Proprio informato Sul Callisto Protocol Ho visto soltanto Qualche filmato Svalorditivo Dove ho visto Queste animazioni Truppulentissime Questa grafica Qualcosa non va Che l'ascensore Sto andando in giù Non in su Dannazione Dovrei proseguire In solitaria Vuoi ancora raggiungere La torre di guardia Non ho sbagliato la strada Fa solo attenzione Ci tengono i veri matti Da sotto Ci tengono i veri matti Qua sotto Va bene L'effetto L'effetto orrorifico Credo che il gioco Ce l'abbia Proprio per la grande capacità Di immergere il giocatore Che una grafica del genere Conferisce Però Purtroppo Il survival horror Non è La mia tazza di tè Come si dice Allora Ok Schiacciare cadaveri Non morti Per colpa mia Non conferisce Sembra Per lo meno Per ora Non conferire Particolari vantaggi Noi abbiamo Una torcia addosso No Però c'è luce Dove Dove ci giriamo Chi cazzo Convertitore energia Che Piede di porco Coltello Convertitore energia Componenti Che possono essere venduti A basso prezzo Ad un reforge In cambio di buoni Di callisto L'UJC Ha autorizzato L'acquisto Di queste merci Di contrabbando Per toglierele Dalla circolazione Ok Un corridoio Stupendo Con questo Fumo A mezz'aria Incredibile Visivamente Guardate la ruggine Sulla porta I materiali Sono Meravigliosi No Ci ho provato Ragazzi Ogni tanto C'è Un jump Schierino Che bella Stanzetta Buoni Di callisto Questo Si è Cagato Fuori L'anima Ok Vabbè Buoni Di callisto Questa fase Esplorativa È molto Bella Però È È strana È come se Il gameplay Tardasse Ad arrivare Adesso ci stanno Facendo assaggiare Piccole Meccaniche Non abbiamo Ancora Ma Siamo Scemi Quindi ci sono Dei cadaveri Che se Li Pesto Mi tirano fuori Sta Merda A quanto pare Se è uscito Da lì Non ci ho fatto caso Mi pare di sì Però Bellissima Sta Cassa Cassa Super Tecnologica Ci metti Dentro il Coltello Si apre Iniettore Di salute Buoni Di Callisto Come ho detto Come ho detto all'inizio Indossate Le cuffie Se non l'avete ancora fatto Perché non vi fidate Fatelo Adesso Perché quello che sentirete È molto indicativo Di un certo aspetto Del gioco Bello L'audio È incredibile I suoni Arrivano Da Ogni direzione È veramente terrorizzante Ragazzi Forse non state ascoltando Il gameplay Con le cuffie Ma Consiglio vivamente Un audio così Circolare Così spaziale Non lo sentivo Da tanto tempo Al momento Tecnicamente parlando Questo gioco Ha un solo problema Di 30 fps Uso letale Della forza Autorizzato Ne voglio Area sgombra Procedere al settore medico Con lui Per esempio Dovremmo evitare Di incontrarci Perché mi pare Di capire Che sia Un pelo Un pelo casatiello Ok Entriamo qua Uso letale Della forza Autorizzato Sì Ragazzi Non posso Tracciarci I sistemi di sicurezza Sono danneggiati Come l'ascensore Di prima Resta fuori Dalla loro abituale E cerca di superarle Di subbiato Ok Quei pezzettoni Di cranio A terra Sono la prima cosa Graficamente brutta Che vedo Però Molto brutta In effetti Resta fuori Dalla loro abituale E cerca di superarle Di subbiato Ok Ok Non devono vedermi Ok Ragazzi Fin qui Il gameplay È sempre stato Uno a uno Pochissimi tagli Però Staparte stealth È troppo Una rottura Di coglioni La velocizzo Un pochino No Raga È quel tipo Di gioco Che a me Alla lunga Cioè Anche alla corte In realtà Mi stanca Particolarmente Tra l'altro Non ha Neanche Un decimo Delle emotività Di Dallastovas Dallastovas Nonostante sia molto simile Come impianto Di gameplay L'ho patito meno Comunque Sono arrivato A odiarlo Con tutto me stesso Intorno alla Trentesima ora Quando non ne potevo più Però La prima parte Me la son goduta Dallastovas Parte 2 Qui invece Proprio Non me ne frega niente Di sto tizio Non Non ho un legame Con lui E questo mi rende Veramente pesante Queste fasi Di gameplay Poi non lo so Adesso non ho visto Nessuno Fare una recensione Non ho visto Neanche un gameplay Sono totalmente blind Magari viene fuori Che tutti gli altri Impazziscoli Lo sono io Il matto Non lo so Non so di che è brutto Sarei un cretino A dire che è brutto Sto gioco Dico che non Mi diverte Proprio Non ho visto Non ho visto Sarei un sword Proprio Non ho visto Ok, eh, ho sbagliato un paio di schivate Curati, curati Si vede un cazzo, non si vede Eh, ho applicato la... Madonna però, eh Sto messo male, ragazzi E dai, però Ste animazioni, quanto sono belli loro, però, eh Bellissimi Dove cazzo sto? Dove cazzo sono? Che è sto posto? Dove minchia sono? Che è sto posto? Nooo Ho capito dove siamo Madonna, che cazzo di checkpoint Non checkpoint Porca troia Sono tornato indietro di 30.000 anni Ma io qua ci dovevo venire? Non mi ricordo se ci dovessi venire, sì o no Allora, qui c'erano i mostri No, niente, niente Cioè, eh, mori cominciò da dietro? Mori cominciò da... Da lì dietro? Ma io dove cazzo devo andare? Non ho capito qual è il mio scopo Con tutto questo Nuova registrazione automatica Mi mancavano queste cose, ecco Premi la croce direzionale in su Per aprire l'inventario Quante ne abbiamo? Diario personale Dottoressa Caitlin Mahler Arrivata oggi a Black Iron E incontrato Cole per la prima volta Mi ha autorizzata a riprendere il programma Non è facile Ma mi fido del mio team Come me capiscono la portata di ciò che facciamo E l'opportunità che ne deriva Va bene Utilissimo Utilissimo Qua sopra non ci sono mai venuto Uh, fermi, fermi Una zona nuova Questi col fuoco intorno Li schivo meglio perché Li vedo Quando ti attaccano al buio Non vedi un cazzo Però raga Io sono su serie X E mi pare di vedere qualche calo Su serie S Sono curioso di provarlo L'ho installato anche su serie S Una cosa che voglio provare Non ho molte speranze che giri bene Su serie S Sì, sì E diventare la migliore versione di noi stessi E ragazzi È un'ora che gioco Faremo altri gameplay Magari anche con Reddits Per il momento Questo Callisto Protocol Non mi dice assolutamente nulla Un'ora Un'ora